È un percorso molto lungo, molto lento, che dovrebbe consentire anche all'Occidente di limitare la propria dipendenza da pochi paesi autocratici. Era l'OPEC, oggi è la Russia. Il rischio rimane, perché oltre alla dipendenza dai paesi che hanno molte riserve di gas, petrolio, combustibili fossili, oggi questo percorso di decarbonizzazione ci porta a possibile dipendenza per le fonti rinnovabili dall'Asia, in particolare dalla Cina, dai materiali critici necessari a far funzionare le fonti rinnovabili. Quindi quello dell'energia è un percorso assai complesso da un punto di vista geopolitico. Io sono Giuseppe La Terza e questo è Radar, un podcast degli editori La Terza. Radar è una serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo, ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità, rimettere ordine e orientarsi. L'energia è una di quelle cose alle quali, almeno da questa parte del mondo, quelli che stanno un po' meglio non pensano perché la diamo per scontata. Poi naturalmente arrivano le bollette più care e ci accorgiamo dell'energia che dipende gran parte della nostra vita, almeno le attività più importanti, gli spostamenti, il riscaldamento, la cucina, la luce, insomma. E quindi ci cominciamo a preoccupare su come ci arriva questa energia. Quando il 24 febbraio è iniziata la tragedia dell'occupazione russa dell'Ucraina, abbiamo cominciato a capire che c'era anche un problema di energia e hanno cominciato a infermarci sul fatto che c'era una dipendenza significativa dei paesi europei, in particolare tra questi anche dell'Italia, dal gas russo. E abbiamo cominciato a cercare di capire come questo dipendesse dalla guerra, che conseguenze ci fossero e abbiamo cominciato a vedere che il nostro governo cercava anche più o meno in sintonia con gli altri governi europei di provare a trovare delle soluzioni, in un contesto abbastanza complicato, già prima della guerra, perché l'energia è una materia intanto che si compone in tante diverse fonti, modalità di approvvigionamento, parti del mondo che appunto ne sono ricche o ne sono sprovviste, insomma un quadro complesso che vorremmo cercare di capire meglio in questa puntata di Radar. E questa settimana a ragionare, accompagnarci al ragionamento sull'energia, abbiamo invitato una persona che studia questi temi, se ne occupa da molti anni, che è Valeria Termini, che insegna economia politica all'Università di Roma 3, è stata commissario anche dell'Autorità per l'Energia e Vice Presidente del Consiglio Europeo dei Regolatori dell'Energia, ha coperto vari incarichi importanti nazionali e internazionali, si è occupato e ha scritto anche aspetti della politica energetica europea, ma oltre a questo poi si è occupato anche di teoria politica monetaria, innovazione, stabilità dei mercati finanziari, ha avuto anche un importante riconoscimento degli Stati Uniti che è l'International Public Administration Award. E poi per la terza ha scritto un libro che in qualche modo portava a sintesi questa sua ricerca, questo lavoro di molti anni, con un taglio divulgativo che si chiama Energia, la grande trasformazione, che la casa editrice ha pubblicato nel 2020. Buongiorno Valeria. Buongiorno Giuseppe, grazie. Dunque, partiamo dall'oggi e cerchiamo di fare un po' di chiarezza in questa materia così complessa. Dai dati che noi abbiamo raccolto, ma che ti chiedo di confermare, l'Europa nel 2021 ha importato 155 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla Russia, di cui l'Italia ha portato 29 miliardi. Ecco, mi confermi questi dati e, diciamo, primo punto, quanto dipendiamo davvero dalla Russia? Chiariscici prima questo punto che mi pare essenziale, da cui può partire poi tutto il ragionamento. Assolutamente sì, confermo i dati. Vorrei fare una piccola premessa, se me lo consenti, che è vero, ancora una volta l'energia è al centro di un conflitto geopolitico, è parte essenziale della guerra economica che si snoda, parallela ai carri armati e alle armi tra Russia e Ucraina, è centrale, ma è solo un tassello nello scenario drammatico di distruzione cui assistiamo. Questo mi sembra essenziale per non creare una impostazione economicista che non è opportuna in questo momento politico. L'energia è comunque un elemento essenziale perché io vedo due binari, se posso dire. Uno è quello delle sanzioni, non vogliamo finanziare l'Europa in primo luogo, le armi russe con il gas che importiamo dalla Russia. E secondo, non vogliamo fermare la decarbonizzazione e lo sforzo di proteggere il pianeta con il quale l'Europa si era mossa molto bene. Sono due tragedie che colpiscono, direi con la massima ingiustizia, i paesi più vulnerabili e la popolazione più vulnerabile. E quindi da questo partirei. Ecco, ma diciamo, quanto dipendiamo dalla Russia? Quanto è forte questa nostra posizione diciamo di difficoltà, di dipendenza? Sì, questo è proprio il crinale delle responsabilità dell'Unione Europea. Allora, ci ho premesso, la dipendenza tra Russia e Europa è forte e reciproca. È vero, l'Unione Europea importa 155, come hai detto, miliardi di metri cubi di gas dalla Russia e finanzia la larga parte del bilancio russo. Si propone l'Unione Europea di ridurre il valore di due terzi a 55 miliardi di metri cubi in due o tre anni, attingendo ad altre fonti. Che vuol dire il gas naturale liquido, da Stati Uniti, Qatar, Egitto, Nord Africa, per circa 50 miliardi di metri cubi sono le previsioni dell'Europa, utilizzando anche i gasdotti esistenti. Stiamo parlando di breve periodo, di ciò che possiamo fare oggi e quindi di ricevere ulteriori 10 miliardi di metri cubi dall'Azerbaijan, dalla Norvegia e dall'Algeria, col biometano, altri 3 miliardi e mezzo circa, ma sono previsioni per quanto contano dell'Unione Europea, e con rinnovabili, 23 miliardi di metri cubi. E infine nel medio periodo invece con tecnologia, avviando la produzione innovativa di idrogeno verde per l'industria pesante, per i trasporti e così via. Tuttavia, lasciami dire, nei dati aggregati si nascondono situazioni molto diverse tra i paesi membri, come giustamente accennavi tu. Germania e Italia sono i più colpiti dal gas. L'Italia tuttavia, mi piace dirlo perché non è ovvio, è in una posizione di estremo vantaggio rispetto alla Germania e deve, può usarlo al meglio sotto la guida di un governo consapevole di questo. Se posso spiegare perché, il primo punto sono i numeri reali. I dati che circolano spesso sono troppo approssimativi e esagerano la nostra vulnerabilità e la dipendenza dalla Russia, che è un crimine in questo momento difficile economico di aspettative. In realtà, come accennavi, l'Italia ha un diverso spettro di fonti fossili per l'energia, di fonti primarie. Se prendiamo il 2019, che è l'ultimo anno normale prima del Covid, durante il quale poi naturalmente si riduce di molto il consumo dell'energia, ecco, le fonti sono differenziate. Abbiamo il gas che copre il 40% dei consumi energetici nazionali presi dal nostro bilancio energetico nazionale. Abbiamo poi il petrolio, che ha 54 mila tonnellate oil equivalent su 150 mila del consumo totale. Abbiamo le rinnovabili, 29 mila e 500 tonnellate oil equivalent e altri combustibili solidi per 6 mila e 500 tonnellate oil equivalent. Ora, il gas che noi utilizziamo è praticamente tutto importato al 90%, sono il 90% di importazioni, quindi dipendiamo dall'estero, ma dalla Russia importiamo solo il 40%, per un gioco di numeri 40 e 40. Questo significa che l'Italia dipende dal gas russo per il 16% dell'energia consumata nel paese, che non è consistente, è molto meno della Germania, che dipende per il 55% dal gas russo. Naturalmente non è poco e su questo ci stiamo muovendo, come giustamente dicevi, il governo si è mosso. In che modo? Uno dei motivi della dipendenza aumentata negli ultimi tre anni dal gas russo è la convenienza. Costava meno di quello algerino e la missione del premier del governo recente in Algeria ci assicura, noi non sappiamo, sono previsioni, ci assicura un ulteriore flusso di 9 miliardi di metri cubi addizionali attraverso Transmed, sul quale torneremo, che è già tutto nostro nel Mediterraneo. Quindi da questo punto di vista si inizia il cambiamento. C'è poi TAP naturalmente, ma in secondo luogo, a differenza di quanto spesso si legge, direi le infrastrutture in Italia aiutano nel breve e nel medio periodo, perché l'Italia ha tre rigassificatori, come sappiamo, che significa poter accogliere il gas naturale liquido non solo attraverso i tubi regionali, ma attraverso le navi, quindi da tutto il mondo. Questi tre rigassificatori, Panigaglia, Livorno e Cavarzese, sono stati due su tre in manutenzione nell'anno passato e adesso riprendono a funzionare, quindi ci daranno una possibilità maggiore. E poi, non dimentichiamo, l'Italia è raggiunta da cinque gasdotti. Citavo prima Transmed, costruito dal lungimirante Mattei negli anni 50, per arrivare all'ultimo TAP, che oggi è in uso dopo aver superato dei contrasti locali molto forti e molto significativi, per spiegare anche la nostra dipendenza dal gas russo. E questo richiama il terzo punto, che è una nuova consapevolezza, speriamo che sia effettivamente concreta, del governo sulla necessità di sbloccare le procedure inutili e dannose che fino ad oggi hanno bloccato larga parte degli impianti da fonti rinnovabili. L'urgenza della congiuntura sembra spingere nella giusta direzione, di favorire la produzione di rinnovabili, non con incentivi necessariamente, ma con l'accelerazione delle procedure attuative in vigore. Anche in questo caso i numeri parlano, e qui mi fermo, in Germania le comunità energetiche locali, di cui forse avremo modo di parlare, hanno superato il migliaio, sono circa 1700, in Italia sono pochissime, e premono per ottenere l'autorizzazione necessaria all'uso di comunità energetiche locali da fonti rinnovabili. Su questo punto torneremo. Ultimo elemento è la posizione geografica. Il Mediterraneo è un'enorme risorsa di gas naturale, dallo zoo in Egitto, trovato da Eni, alle scoperte marine più recenti nella zona antistanti Israele, Gaza, Cipro, e da diversi anni si discute sul tragitto opportuno per far arrivare questo gas all'Europa attraverso l'Italia. Il doppio flusso di SNAM imposto dalle regole europee consente questo, oggi il trasporto da sud al nord. Fino alla guerra in Ucraina, ahimè, l'ostacolo principale allo sviluppo di questa via mediterranea, di cui l'Italia è al centro, è stata la concorrenza del gas russo, che attraverso Nord Stream, e qui c'è molta responsabilità della Germania, perché Nord Stream è il gasdotto che collega direttamente la Russia alla Germania, e poi al resto d'Europa molto, molto consistente. Ecco, riforniva la Germania e parte dell'Europa, oggi non c'è più questa concorrenza e l'Italia dovrà assumere la guida di questa risorsa vicina anche al Mediterraneo. Questo è un po' il panorama, diciamo, nostro, italiano, a fronte della necessità di diversificare la dipendenza dalla Russia, che è una responsabilità storica, naturalmente. Mi pare che ci hai fatto un quadro molto chiaro di sintesi. Ecco, cominciamo a entrare dentro alcuni dei temi di cui hai parlato. Tu hai parlato della necessità, dell'urgenza, che però è un'accelerazione, non è un'assoluta novità, della diversificazione, no? Cioè è un tema che esisteva anche prima della guerra. Questa diversificazione sia tra le fonti energetiche, tra cui vanno perseguite appunto quelle rinnovabili, sia all'interno invece delle fonti tradizionali. Su quest'ultimo punto tu hai accennato all'Algeria. Non c'è solo l'Algeria, però mi sembra, tra i paesi a cui ci stiamo rivolgendo per compensare la riduzione del gas russo, sbaglio? Assolutamente no. Di fatto, per quanto riguarda i gasdotti, noi abbiamo un gasdotto che risale ai tempi di Mattei con la Libia. In questo momento è difficile immaginarlo. Però c'è la Tunisia, per esempio, altre parti dell'Africa, dove si è recato il nostro governo, parlavo solo dei gasdotti del Mediterraneo. Metteva a fuoco il Mediterraneo, che è un punto centrale che è stato per troppo tempo quasi dimenticato, direi, colpevolmente dimenticato dall'Italia. Poi il GNL, il gas naturale liquido, come dicevo, che arriva per nave, arriva in particolare dal Qatar per noi, ma anche dagli Stati Uniti. Ecco, però fermiamoci un attimo sul Qatar o altri paesi. Insomma, noi stiamo parlando da qualche minuto di un aspetto economico, l'approvedimento di energia, che però vediamo, come mai forse abbiamo visto nel recente passato, quanto è correlato a un aspetto politico, anzi a un aspetto ancora più drammatico come la guerra. Ecco, una piccola parentesi di riflessione su questa connessione. Il fatto che noi compensiamo la riduzione del gas russo con il gas di altri paesi che non sono democrazie anch'essi, alcuni dei quali, diciamo, sono regimi, come dire, molto lontani rispetto ai nostri. Non comporta un problema, un rischio ulteriore? Assolutamente sì. In questo senso stiamo ripercorrendo con i combustibili fossili una storia passata. Hai certamente ragione. Qui bisogna ritornare indietro agli anni 70, perché il cuore della transizione energetica, della trasformazione energetica, adesso congiunturalmente acutizzata come urgenza dalla guerra e dalla dipendenza russa, ma risale almeno agli anni 70, se non vogliamo parlare delle, come dire, brutte posizioni dell'Europa e degli Stati Uniti nei confronti dei paesi del Golfo di inizio secolo, quando fu creato con un colpo di penna l'Iraq e in accordi che poi hanno fatto sentire le loro conseguenze fino per tutto il secolo, in realtà l'Iraq e i paesi del Golfo e l'Iran, destabilizzando quella regione in modo fortissimo. Se vogliamo essere più vicino a noi, però ancora a 50 anni fa, pensiamo agli anni 70. Gli anni 70 sono stati fondamentali per segnare la necessità del passaggio a un nuovo ordine energetico globale, che uscisse dal petrolio e dai combustibili fossili, ovvero, vabbè, noi conosciamo bene la prima crisi del petrolio, dell'OPEC, in 73, quando i prezzi sono quadruplicati e hanno creato un problema importante alla crescita dell'Occidente, che iniziò a chiamarsi Occidente proprio in quel frangente, era l'Occidente contro i paesi, i paesi consumatori contro i paesi produttori, anche se tra i paesi consumatori avevamo la Cina. Ora, se dovessi mettere una data importante di cambiamento direi che è il 79, perché il 79 è la seconda crisi petrolifera, appunto la dipendenza dai paesi dell'OPEC, nello stesso tempo abbiamo Deng Xiaoping che apre la Cina al socialismo moderno nel mondo capitalistico, la immette nel nostro mondo capitalistico e nel 79 l'Islam sconfigge la Russia in Afghanistan con il sostegno velato degli Stati Uniti. Il fatto che proprio in quell'anno scoppi la seconda crisi petrolifera dopo la rivoluzione iraniana ci dice come sia un problema globale anche questo dell'approvvigionamento delle fonti. Non possiamo allargarci troppo nel ragionamento, ma è proprio in quegli anni, negli anni 70, che gli Stati Uniti decidono che l'approvvigionamento di petrolio deve essere anche parte della strategia politica nazionale, della strategia di difesa. Questo avveniva già dalla seconda guerra mondiale, ma si aputizzi in quel periodo. Dobbiamo cercare gas e petrolio al nostro interno. Gli Stati Uniti decidono di diventare indipendenti e qui abbiamo lo Shell Gas e lo Shell Oil che oggi ci consente anche di utilizzare in Europa le esportazioni degli Stati Uniti. E poi abbiamo la forte attenzione, dopo il rapporto Meadows, dopo i social limits to growth del rapporto Meadows e il coinvolgimento delle Nazioni Unite sulla salute del pianeta, abbiamo anche la nuova esigenza di abbandonare i combustibili fossili. Questo è il grande cambiamento degli anni 70. Ci si riesce in parte, perché il petrolio si riduce di molto nella sua composizione, nella componente delle fonti primarie, è un percorso molto lungo, molto lento, che dovrebbe consentire anche all'Occidente di limitare la propria dipendenza da pochi paesi autocratici. Era l'OPEC, oggi è la Russia. Il rischio rimane, perché come giustamente tu dicevi, oltre alla dipendenza dai paesi che hanno molte riserve di gas, petrolio, combustibili fossili, oggi questo percorso di decarbonizzazione ci porta a possibile dipendenza per le fonti rinnovabili dall'Asia, in particolare dalla Cina, dai materiali critici necessari a far funzionare le fonti rinnovabili. Quindi quello dell'energia è un percorso assai complesso da un punto di vista geopolitico. Ecco, ma come economista non pensi che ci sia stata un po' un'idea, un po' forse ingenua, che scambiare con paesi autocratici come la Russia potesse poi portare in qualche modo a favorire un processo di democratizzazione, cioè che il mercato fosse anche un'arma per normalizzare in qualche modo un sistema dittatoriale? Non credi che ci sia stata un po' questa illusione anche da parte, diciamo, degli economisti? Assolutamente sì, assolutamente sì, proprio la risposta degli anni Ottanta è in quello che tu dici. Si definisce con l'egemonia del pensiero anglosassone di Reagan e della Thatcher l'idea che il mercato sia sovrano, però è una vittoria fragile e temporanea che mostra la sua debolezza nel nuovo millennio subito, con la crisi del 2008. Lascia tracce disastrose per l'Occidente nel disfacimento delle istituzioni dello Stato, nel quadro politico. Certo, peraltro forse anche un'idea del mercato che non è da tutti condivisa, cioè il mercato poi non è tanto e soltanto quello che Keynes chiamava animal spirits, cioè energie imprenditoriali, ma è anche un sistema di regole che in Russia ovviamente sono sempre state molto diverse da quelle che vivono nei sistemi anglosassoni piuttosto che in Europa, no? Ecco, vedi, questo è molto interessante perché l'Europa ha ripreso la sua visione di unità energetica europea, di unione energetica europea, basandosi su questo paradigma di mercato, sulla liberalizzazione, ma con grande cautela perché l'idea era costruiamo un mercato attraverso le regole, un mercato unificato per garantire anche la sicurezza di approvvigionamento. Insomma, non è un caso se quando si è avuta la prima crisi dell'Ucraina di Gaza, ancora era appena nata l'autorità di regolazione europea da poco, non c'erano regole europee che garantissero la solidarietà tra i paesi confinanti. Nel 2009, la seconda crisi, l'Ucraina è stata completamente approvvigionata da Polonia e Slovacchia, quindi le regole hanno funzionato in questo senso, ma hanno funzionato non nel mercato libero, non era un punto di mercato libero, era un mercato regolato e regolato in modo da creare, se vogliamo, al meglio una condizione solidaristica tra i paesi membri. Infatti, peraltro con i trattati di Lisbona abbiamo quegli emendamenti che consentono di far entrare l'energia e il clima nell'ambito delle regole europee e questo è essenziale. Tra l'altro ricordo che la Russia ha cercato più volte di aggirare queste regole con contratti bilaterali sempre disdettati dalla Commissione europea con i paesi membri. L'unica grande debolezza straordinaria è stata con la Germania, perché la Germania per motivi in parte politici, per il vicinato con la Russia, in parte anche per una sorta di egoismo economico, diciamoci la verità, una responsabilità economica nazionale forte, ha consentito prima Nord Stream 1 e poi Nord Stream 2, cioè un gasdotto diretto, eludendo le regole europee. Questo mi consente di sottolineare come sia anche oggi davvero importante, c'è stata una svolta quest'anno da parte della Commissione europea e come sia importante che i paesi membri non sfuggano dalla unione della voce europea con un rischio autarchico molto forte. Ecco, ma a questo proposito, scusami se ti interrompo, ma appunto l'impressione che abbiamo è che da una parte, come è stato detto in queste settimane, l'Europa ha ritrovato una forte unità nell'applicazione delle sanzioni, no? E quindi i governi europei si sono rapidamente trovati su questo. Però poi tu ci hai raccontato e apprendiamo che il governo italiano va in giro per il mondo a fare accordi. E l'Europa? E questo è il punto più delicato, nel senso che qui io penso che sia indispensabile distinguere tra la congiuntura e il medio-lungo periodo. Nella congiuntura viene da dire che è importante che i paesi, soprattutto i più colpiti come la Germania e l'Italia, riescano a differenziare. Credo che sia un problema proprio etico, politico, quello di non finanziare le armi russe, come ho detto all'inizio. Noi non possiamo dare 80 milioni di euro al giorno a Putin per finanziare le sue armi. Quindi dobbiamo in tutti i modi sciogliere questa dipendenza. L'Europa dà degli indirizzi importanti e qui è interessante notare come l'azione di Putin, hai ragione nella tua osservazione completamente condivisa, Putin toglie il gas alla Polonia e alla Bulgaria con l'idea di dividere ancora una volta l'Europa. E la risposta della Commissione, in realtà di Ursula von der Leyen, è forte, è no, noi agiremo insieme. E il pacchetto che stiamo aspettando dopo cinque pacchetti di sanzioni unitarie che abbiamo avuto nel giro di un mese, ricordiamolo, tra il 25 febbraio e il 15 marzo, insomma sono cinque pacchetti votati all'unanimità compresa l'Ungheria, compresi i paesi più vicini alla Russia. Ecco, la risposta oggi dell'Europa è cerchiamo di trovare un percorso comune nonostante delle fughe per tamponare la possibilità di rimanere al freddo dei singoli paesi. Il rischio di autarchia in questo senso è molto forte. L'Europa deve assumere la responsabilità di guida dei paesi membri, non è facile, non è facile per il percorso decisionale, non è facile perché il rischio energetico è forte. È vero, l'Italia, tornando a noi, ha visto il governo muoversi per trovare altre fonti di gas, ma abbiamo il Premier che ha dichiarato più volte seguirò l'Europa, qualunque siano le decisioni sulle sanzioni, appunto l'Italia e la Germania sono le più colpite, qualunque sia la decisione seguiremo la linea europea e questo è un punto essenziale perché se una responsabilità dell'Europa c'è è quella di non essere stata sufficientemente protagonista negli anni passati, anche in questa congiuntura. Mi piace ritornare sul cambiamento di paradigma dell'Unione Europea intorno all'energia proprio che si è avuto subito prima del Covid. quelli sono step importantissimi perché il Green Deal nel dicembre 2019 ha unificato intorno a un progetto politico non più fatto di percentuali sul debito, che pure sono importantissime, ma su un progetto di crescita comune, sostenibile socialmente, quindi in parte solidaristica e sostenibile ambientalmente. Questo è stato davvero un cambio importante, l'Europa ha avuto un leadership di pensiero e da lì persino il PNRR con il Covid, il Covid ha dato questo esempio anche di politica economica e appunto da economista lo vedo solidale, molto importante. Adesso si tratta da parte dei singoli stati di attuarlo in modo strategico, con una visione strategica, qui è molto delicato il ragionamento sull'Italia, speriamo che questo possa avvenire, ma d'altra parte si trova un'Europa che deve cambiare anche le sue macro-politiche, macro-economia, perché la Banca Centrale si trova non solo a dover affrontare l'aumento dei prezzi, ma anche a dover sostenere i Paesi membri dalla crisi, quindi è un momento veramente delicatissimo. Ecco, ma posso chiederti, in questo gioco diciamo che è economico e anche geopolitico, tu ci hai raccontato delle trasformazioni anche precedenti che nei decenni ci sono state, per esempio nella politica americana di rendersi autonoma e che oggi rende gli Stati Uniti anche appunto pongono in posizione diversa rispetto alla Russia, rispetto all'Europa. Ecco, ci sono interessi comuni occidentali tra gli Stati Uniti e europei o ci sono anche interessi competitivi in questa partita? Sulla partita energetica è evidente che l'Europa sta seguendo in parte gli Stati Uniti ed è molto facile per gli Stati Uniti proporre un embargo su oil and gas, poiché non ha importazioni di oil and gas alla Russia, se non in minima parte di petrolio, mentre per l'Europa è un colpo molto importante. Quindi da questo punto di vista, anzi, se vogliamo, alcuni sostengono ed è anche vero che il GNL americano trova uno sbocco immediato. Tra l'altro è interessante vedere come giocano i prezzi relativi in questo perché su 36 navi che in questo momento piene di GNL girano per gli oceani, più della metà sono dirette in Europa e meno di 10 sono dirette in Asia perché il prezzo europeo è molto salito. Tornando agli Stati Uniti, per quanto riguarda l'energia, sì certo, noi siamo più colpiti di loro, è indubbio. Per quanto riguarda l'economia gli interessi sono paralleli, anche se per esempio per quanto riguarda l'inflazione, gli Stati Uniti sono stati molto più aggressivi e cercano con la banca centrale di accelerare la fine del quantitative easing, la pedal reserve, un aumento dei tassi di interesse e l'Europa, io credo, non potrà che seguire da questo punto di vista, anche se la debolezza fiscale in una situazione di inflazione con tassi di interesse crescenti colpisce di più i paesi europei. Quindi è molto complicato questo assetto geopolitico. C'è poi la Cina, c'è poi la Cina che è già entrata in modo prepotente nell'economia globale ed è il principale rivale degli Stati Uniti, non è percepito così dall'Europa. Per rispondere in sintesi alla tua domanda, mi piace ricordare che, mentre le aspettative del Fondo Monetario sono relativamente meno pessimiste, quelle dell'industria, delle due parti dell'Atlantico sono molto diverse, ovvero ci sono questi indicatori della Deutsche Bank e di Standard & Poor's che quantificano le aspettative degli imprenditori nel prezzo dell'assicurazione da perdite sul valore azionario dell'impresa, cioè sulle opzioni. Lo fanno da qui a un anno e da qui a dieci anni. Da qui a un anno sono pessime, sono negative, sia per l'Europa che per gli Stati Uniti. Da qui a dieci anni confrontano Germania e Stati Uniti. Per la Germania continuano a essere molto negative, si tratta delle aspettative degli imprenditori. Per gli Stati Uniti sono assolutamente indifferenti, cioè come se tutto rientrasse nel giro di un anno. Quindi c'è una differenza economica importante che stiamo vivendo da questo punto di vista. Ecco, quindi diciamo che possiamo constatare una cosa, cioè in realtà l'Europa è quella che soffre e soffrirà di più della crisi ucraina e però non sembra essere in questo momento quella che traina la politica di relazioni con la Russia. Sembra che nel rapporto siano gli Stati Uniti quelli che fanno il tono della discussione geopolitica con la Russia, o sbaglio? No, purtroppo condivido questo, sia da un punto di vista economico che geopolitico. Gli Stati Uniti si stanno già, al di là di questa congiuntura drammatica, si stanno preparando con il Ministero della Difesa dell'Energia e dell'Industria alle nuove filiere delle rinnovabili, perché il loro problema è la Cina. Per esempio siamo i conduttori dalla Sud Corea, quindi questo è il loro orizzonte. Noi no, su questo, al di là dell'aspetto economico e energetico hai assolutamente ragione, credo. L'Europa deve esserci, deve esistere, deve dare la sua voce, come ha fatto, io ricordavo per essere ottimista il Green Deal, ma deve entrare nelle relazioni, perché la Russia è in casa, l'Ucraina è in casa e non possiamo permetterci di non assumere la responsabilità geopolitica che non stiamo sempre assumendo, come tu giustamente ricordavi. Abbiamo chiesto a Stella Levantesi di raccontarci cosa è cambiato nella comunicazione sulla crisi climatica, soprattutto da parte delle grandi aziende che operano nel settore energetico. Stella Levantesi è una giornalista, autrice di un volume intitolato I bugiardi del clima, con un sottotitolo Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo. Ecco cosa ci ha detto. Proprio pochi giorni fa è uscito un nuovo rapporto dell'organizzazione indipendente Influence Map su come il settore del petrolio e gas sta usando la guerra in Ucraina per indebolire gli impegni dell'accordo di Parigi sul clima. L'industria utilizza, secondo il rapporto, una serie di narrazioni chiave per promuovere i propri interessi fossili e molte di queste includono affermazioni fuorvianti e disinformazione. Tra queste ci sono narrazioni che possiamo ricordare conoscere quotidianamente leggendo dichiarazioni politiche, leggendo dichiarazioni da parte delle aziende, spot pubblicitari, pubblicità online, disinformazione online e sono narrazioni come per esempio puntare il dito contro altri per l'aumento dei prezzi del gas, fare una chiamata per sviluppare petroli e gas nazionali, promuovere il gas con energia adatta alla transizione perché viene, si dice, considerata un'energia pulita, cosa che non è. In realtà le compagnie di gas e petrolio stanno guadagnando moltissimo dalla guerra, sono stati fatti dei calcoli e le cifre sono esorbitanti. Quando ho parlato con Svitlana Romanko, un attivista avvocata ucraina, esperta di ambiente e clima, per un articolo che tratta proprio di come le aziende fossili stanno sfruttando la guerra, lei ha definito questo atteggiamento come peace washing, cioè l'esibizione di un finto impegno a favore della pace, proprio per aumentare i profitti. E oggi moltissime aziende del settore dei combustibili fossili stanno adottando questi comportamenti. A marzo, all'inizio di marzo, più di 600 organizzazioni in 57 paesi hanno firmato una petizione per chiedere ai leader politici di, qui cito testualmente, mettere fine alla dipendenza globale dai combustibili fossili che nutre la macchina da guerra di Putin. Sempre a marzo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha presentato un piano in 10 punti per ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dal gas russo. E oltre a chiedere di non stipulare nuovi contratti per la fornitura di gas con la Russia, il piano suggeriva anche di, soprattutto di accelerare nuovi progetti basati sull'energia solare ed eolica, quindi le energie rinnovabili, e altre alternative come le pompe di calore. Moltissimi esperti sostengono che la vera indipendenza energetica si baserà effettivamente sulle energie rinnovabili e alcuni paesi europei hanno già annunciato che rafforzeranno i progetti legati alle energie rinnovabili per accelerare questa transizione verso l'energia pulita e abbandonare il gas russo. Quindi sicuramente viene considerata come un'opportunità per accelerare la transizione. Tutto dipenderà dal peso che avranno certi interessi, per certi interessi intendo gli interessi fossili e legati anche a interessi economici e politici, perché appunto c'è un, come anche dimostrato in più casi, tra cui anche dal rapporto di Influence Map, un lobbying molto forte e molto pesante da parte delle aziende di combustibili fossili per far passare i propri interessi a livello nazionale, a livello europeo e anche in altri paesi, come per esempio negli Stati Uniti. Non possiamo approfondire naturalmente le agganci, le concatenazioni di tutto questo discorso che hai fatto, molto interessante sarebbero infinite, però almeno una cosa possiamo accennarla. Tu hai parlato prima del Green Deal, dell'importanza delle scelte europee. Beh, diciamo, questi avvenimenti drammatici che cambiano le prospettive però sono dentro a un processo che avviene da anni e che riguarda il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, in cui diciamo appunto l'Europa invece sembrava aver preso una posizione di leadership. Come si incrociano le due cose, nel senso che appunto la crisi in un certo senso può essere un acceleratore positivo di questo processo di cambiamento o no? Può esserlo se guidato dall'Europa. Non lo è se lasciato, lo vediamo, alla libera come dire, soluzione dei paesi membri. Siamo troppo diversi per poter essere, per poter prendere in considerazione con le nostre popolazioni il rischio climatico. Questo è un messaggio importantissimo. L'Unione Europea deve assumere questo ruolo guida per i paesi membri, perché come dicevo il rischio autarchia ha dei brutti ricordi storici naturalmente, l'Europa è in grado di farlo. Bisogna che i paesi membri ne assumano la responsabilità politica e da questo punto di vista una revisione del percorso decisionale è nelle cose, del percorso decisionale della Commissione Europea. C'è un dibattito in questo senso tra il tavolo intergovernativo e il tavolo europeo. Faccio un esempio, l'esempio è sempre sulla Germania, di fatto che con i paesi più forti, Germania, Francia, Spagna e Italia, deve assumere un ruolo di responsabilità condivisa nei confronti della Russia. Da un punto di vista economico la Russia pesa pochissimo nei dati globali, perché ha un reddito di 1700 miliardi di dollari, che è praticamente come il nostro, ha il doppio dei nostri abitanti, 144 milioni, no più del doppio, con un reddito pro capite di 10 mila dollari, che praticamente rispetto all'Italia e agli Stati Uniti, alla Francia, è ridicolo, è vicino alla Cina, quindi ha un ruolo economico apparentemente molto contenuto, le esportazioni russe sono 400 miliardi di dollari, pesano meno del 2% negli scambi mondiali, ma in questo momento noi abbiamo un rapporto tra Russia e Europa che è fondamentale, è quello che cercò di ricostruire la Merkel in modo solitario, non in modo europeo e questo è una responsabilità imperdonabile, io credo, sull'energia. Per concludere questa nostra conversazione di cui ti ringrazio, da cui sono emerse, mi sembra, anche alcuni punti fermi che ci aiutano e che non escono nella discussione pubblica, per esempio quello che tu ci hai detto sulla minore dipendenza in realtà di quello che ci viene rappresentato e sul fatto che è una questione anche di prezzo e che questi diversi approvvigionamenti potremmo in parte compensare, però poi tu hai detto più volte ci sono scelte di breve periodo e scelte di medio lungo. Le scelte di breve periodo forse sono più facili in un certo senso perché sono dettate all'emergenza, quelle di medio lungo sono più complicate perché richiedono anche una costruzione diciamo culturale e politica. Ecco, di nuovo, da economista che però si è sempre posta in termini di rapporto molto forte con la politica o con le scelte delle istituzioni. Tu hai detto prima dipende dall'Europa, ecco, ma tu pensi che in questo momento si possa immaginare un processo di evoluzione politica più forte dell'Europa? Cioè pensi che dopo aver capito che, come dire, l'Europa economica richiede un'Europa politica? Pensi che siamo nel momento in cui questa Europa politica sia matura e come compenseremo da questo punto di vista le differenze anche forti che ci sono nei vari regimi politici nazionali? Cioè dal tuo punto di vista l'economia spinge in questa direzione, lo richiede? Questo di cui ci hai appena parlato dell'energia è un tema che suggerisce un'urgenza politico-istituzionale? Assolutamente sì. Devo dire che l'esito della guerra in Ucraina è davvero imprevedibile, può precipitare come può fermarsi, è l'incertezza su cui non si può prevedere nulla. Tuttavia il Covid è stato un esempio della costruzione mattone per mattone di una nuova identità politica, di un rinforzo della identità politica solidaristica europea. Sono valori importantissimi che hanno credo in parte guidato il cambiamento di paradigma nell'economia mondiale, globale. Quindi il percorso era avviato con una visione strategica, si è fermato con la guerra. Io non vedo purtroppo una strategia per esempio di welfare comune, una strategia di bilancio comune che sarebbe essenziale per poter avanzare nella direzione che ospitiamo. Si è avuto col Covid, si è fermato con il supporto all'energia, quindi si lascia molto margine ai Paesi membri per agire da soli. Questo non è positivo. Viceversa il Covid ha mostrato come la costruzione, il rafforzamento delle istituzioni europee, dell'architettura istituzionale europea sia vincente per tutti i Paesi membri. Non è facilissimo per alcuni, anche perché siamo così diversi. Qui entra la discussione per esempio sull'accesso dell'Ucraina, sul Paesi baltici, è un discorso politico molto diverso naturalmente, che esce da quello prettamente economico. Mi viene da dire che per fortuna l'economia ritrova un animo politico, un animo politico dell'economia il cui sistema nervoso è necessariamente basato sulle istituzioni, sull'architettura europea che deve alimentare questo cambiamento di visione per una visione strategica che non si basa solo sulle percentuali del debito, per esempio le percentuali fiscali. Ricordiamo la Grecia per esempio. Ecco, la visione strategica dell'economia politica si basa sulle istituzioni, sull'architettura istituzionale che sono in grado di guidare questa visione strategica e questa è una responsabilità dell'Europa economica molto importante, essenziale direi, perché senza il sistema nervoso, cioè le istituzioni che alimentano una visione strategica di economia politica, l'Europa muore. Ultimissima questione, è giusto che noi ci preoccupiamo dell'Europa, però siamo dentro un contesto mondiale in cui non a caso tu ci hai parlato della Cina, cioè parlate degli Stati Uniti. Ecco, in questo contesto sarà possibile nei prossimi anni procedere senza avere in qualche modo un sistema di regole condivise anche dal punto di vista globale, c'è un sistema di governance che riguardi anche l'energia, cioè com'è possibile convivere con uno scenario conflittuale e competitivo in cui non ci siano delle regole condivise. Noi abbiamo parlato di Europa finora, questo è il punto importante, il punto essenziale, vogliamo parlare del sistema di Bretton Woods, della costruzione dell'architettura internazionale che ha guidato per più di 30 anni il mondo, di nuovo con delle istituzioni che erano in grado di coalizzare i paesi del mondo con una visione certamente nata dalla Seconda Guerra Mondiale. Poi io credo che con la fine della guerra fredda l'Occidente abbia pensato di aver avuto una vittoria definitiva che in realtà era molto fragile come stiamo vedendo, è inutile ricordare ancora i testi sulla fine della storia e su questi dibattiti, era una vittoria molto fragile perché priva di istituzioni che regolassero questo passaggio importantissimo da una centralità di un paese egemo negli Stati Uniti a un multipolarismo in cui entrava la Cina da un punto di vista economico, entrava l'Asia, pensiamo ai paesi dell'ASEAN, i cinque, Singapore, Indonesia e gli altri che hanno delle diversissime impostazioni di governance e un'economia fortissima da cui dipenderemo. Ecco, è come se i nostri governanti internazionali non fossero riusciti a costruire un terreno comune se non, pensa, paradossalmente se non sul cambiamento climatico, ma anche questa è un'architettura molto fragile perché basta ricordare Trump esce, porta fuori gli Stati Uniti dagli accordi sul clima stretti nel 2015 tra Biden e Xi Jinping. Quello è stato l'unico tavolo globale, ma certamente insufficiente perché non decisionale e non operativo. Quindi quello che tu dici è essenziale della costruzione di un rapporto multilaterale di istituzioni internazionali, appunto come accadde dopo la seconda guerra mondiale a Bretton Woods. È terribile che serva una guerra per portare a questo, speriamo che la guerra si argini e si limiti e si possa immaginare dei negoziati che portino comunque come esternalità positiva a una costruzione, a un'architettura internazionale su questo di istituzioni. Non sono molto ottimista in questo momento su questo terreno. Però Valeria possiamo dire a conclusione di questa nostra chiacchierata che così come all'inizio dicevamo che l'energia nei paesi benestanti si dà per scontato e che la guerra ci mette di fronte al fatto che non lo è, questo se vogliamo essere ottimisti può essere se sapremo sfruttarlo un insegnamento terribile della guerra, cioè che nulla si può dare per scontato. Quel aspetto solidaristico a cui tu accennavi prima è un aspetto che oggi nel mondo dobbiamo estendere a comunità molto più ampie di quelle che siamo abituati a frequentare o eravamo abituati a frequentare nel passato e che questo richiede un supplemento anche di immaginazione. Dobbiamo essere molto coraggiosi e molto immaginativi. Io ti ringrazio moltissimo, è stato molto utile questa nostra conversazione credo per tanti elementi che sentiamo ricorrere continuamente nell'informazione in maniera abbastanza semplicistica che invece grazie a te siamo stati capaci di approfondire. Quindi ti ringrazio molto e spero che chi ci ascolta potrà trarre utili riflessioni. Grazie, grazie molte Giuseppe. Lasciami concludere con una nota positiva anche a me che è quella della sensibilità dal basso nei confronti di questi temi e lasciami accennare alla straordinaria potenzialità delle comunità energetiche locali in cui la popolazione, i cittadini sono direttamente responsabili del consumo e della produzione di energia insieme alle piccole imprese, ai governi locali. Ecco, questa è una via da percorrere che ci consente di esportare un modello positivo di transizione ecologica nei paesi che non hanno ancora accesso all'energia. Per esempio, parlavi di una posizione globale giustamente nei confronti dell'energia. Pensiamo all'Africa, abbiamo 750 milioni di abitanti senza accesso all'energia nel mondo, di questi più di 500 sono nell'Africa subsahariana. Immaginare di esportare non armi ma modelli di sviluppo sostenibile con fonti rinnovabili, piccoli impianti locali nei villaggi è un punto di forza fondamentale che in Italia, come in altre parti, come in Europa, in questo momento è molto sentito e c'è una pressione molto forte della popolazione, delle piccole imprese e dei governi locali in questa direzione. Utilizziamola. Bene, grazie e sono contento che hai voluto chiudere con una notte di ottimismo della volontà. A presto. Avete ascoltato Radar, un podcast degli editori La Terza. Post-produzione e musica a cura di Matteo Portelli. Grazie a tutti.